Oggi mi freggio di essere il portavoce della lista di centrodestra come responsabile dei civici di Cardano che si presenta alle amministrative del 2019 e alle amministrative di fine maggio. Colgo questa occasione per ringraziare le persone che stanno credendo in me, che hanno creduto in me e le forze politiche che hanno deciso di sostenermi, con le quali stiamo allestendo un progetto di lavoro innovativo. Ringrazio in questa occasione gli amici della Lega, gli amici di Fratelli d'Italia e gli amici di Lombardia Ideale che mi hanno comunque assicurato il loro sostegno a questo progetto. E' inutile dire che la volontà che comunque stiamo mettendo in campo e stiamo studiando da quasi un lustro va verso la voglia e la determinazione di essere veramente pronti a dare un cambiamento, un cambiamento di quelli epocali e di quelli sicuri per quanto riguarda il servizio cittadino sul territorio di Cardano.